Abbiamo deciso di organizzare un convegno molto particolare su un tema scottante che è quello delle unioni civili e soprattutto l'importanza del ruolo dell'avvocato nella redazione dei cosiddetti contratti di unioni civili. Che cosa succede quindi se un convivente ad esempio dovesse stare in stato di degenza ospedaliera e quindi la prima domanda che viene fatta è tu chi sei per poterlo soltanto andare a trovare? Con il contratto di unione civile viene regolamentata questa presenza dal punto di vista giuridico e soprattutto ne conosceremo quelli che sono gli effetti patrimoniali. Sulla legge Cirinna si continua a discutere, neanche la sua approvazione ha placato gli animi ma al di là delle discussioni tra favorevoli e contrari ora resta da affrontare una questione squisitamente tecnica legata agli effetti patrimoniali della norma. La bussola di tutto quando si parla di norme che incidono sui diritti è sempre una ed è quella di tutelare soprattutto i diritti dei soggetti più deboli all'interno dei rapporti giuridici che prendiamo in considerazione, in questo caso le donne ma soprattutto i minori. Di questo si è discusso al Torrione di Bitonto in un convegno organizzato dall'AGAV, Associazione Giovani Avvocati. Il primo incontro sulle implicazioni di una legge che tanto impatto avrà sulla società. Molto si è discusso soprattutto nella fase preparatoria di discussione di questa legge ma adesso si tratta poi di vedere in concreto sia da un punto di vista strettamente giuridico sia da un punto di vista sociale quali sono le ricadute che questa legge può avere nelle relazioni affettive che va a regolamentare. Grazie.